mal tempo alberi un semaforo caduti disagi contenuti spaccio di droga a fano arrestata coppia dopo due anni di indagini elezioni si sciolgono le riserve sui candidati di centrodestra il paese dei balocchi acclama barbarossa sindaco calcio la vissi presenta in clima campionato una buona serata è un buon venerdì a tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati al nostro spazio di informazione rossini news in questo notiziario del 19 di agosto che arriva dopo ore importanti che hanno dato una consistente tregua alla perdurante siccità sul nostro territorio provinciale in particolare la nottata di mal tempo che c'è stata è stata documentata anche da alcuni video di segnalazione arrivati da voi telespettatori che ringraziamo e in particolare quelli che state vedendo arrivano dalla zona pesarese della torraccia diversi gli interventi notturni dei vigili del fuoco per rimuovere rami e piante caduti in strada l'immagine in questione ad esempio si riferisce alla rimozione di un grosso albero caduto in via goito zona villa san martino comune di pesaro nel quale si sono canalizzati la maggior parte degli interventi assieme alle zone di fano montelabate e monte ciccardo a fermignano invece il vento ha sradicato un semaforo ma non si segnalano persone coinvolte nei disagi un'altra immagine che vi mostriamo è stata postata su facebook da gabriele lonzi e testimonia invece il momento della caduta di una consistente porzione del pino di 32 metri al centro della piazza di borgo pace che vi abbiamo anche raccontato ieri la pianta è caduta su alcune auto in sosta non coinvolgendo persone ed è stata successivamente tagliata dai vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona con grande dispiacere per un albero che fu piantato nel 1957 ed ora la cronaca ci porta a fano dove i carabinieri hanno sgominato una articolata attività di spaccio di cocaina in vacanza con i soldi accumulati dallo spaccio di droga lui arrestato direttamente sul luogo della villeggiatura lei non appena scesa dall'aereo è finita così la fiorente attività di spaccio di una coppia di pusher che operava su fano e che ora è in manette per spaccio di cocaina e marijuana per indebito utilizzo di pagamento diverso dai contanti per estorsione aggravata eppure per calugna il tutto utilizzando un bed and breakfast fanese come deposito di stupefacenti si tratta di una vicenda che parte da indagini scattate nel settembre 2020 quando i carabinieri hanno controllato un ragazzo nell'abitato della sassonia di fano trovandolo in possesso di circa 10 grammi di cocaina il giovane che nell'occasione veniva arrestato era stato notato avvicinarsi in bici ad una piccola utilitaria successivamente risultata in uso alla coppia prima di essere trovato con lo stupefacente occultato nello zaino un episodio dal quale è emerso che la coppia vendeva circa 300 grammi di cocaina al mese con approvvigionamenti a riccione in favore di acquirenti di fano pesaro e fossombrone proprio nell'occasione di uno dei viaggi a riccione l'uomo di rientro su fano è stato sottoposto a controllo e arrestato perché trovato in possesso di un notevole quantitativo di cocaina dopo l'interrogatorio all'uomo è stato anche contestato il reato di calugna avendo cercato di indirezzare su altre persone le proprie responsabilità non solo calugne ma pure episodi di estorsione con debiti di droga regolati a suon di percosse e minacce l'uomo è stato rintracciato e arrestato il 29 luglio ad esenzano del garda mentre era in vacanza della donna invece si erano perse ogni tracce fino a mercoledì quando è stata pizzicata all'aeroporto di bologna di rientro dalla spagna e condannata ai domiciliari parliamo di politica lunedì 22 agosto il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali e dopo il percorso travagliato di nomi proposti dal centro sinistra nelle marche siamo anche agli ultimi ritocchi per quello che riguarda le scelte della centrodestra salvo ribaltoni sarà il leghista mirco carloni l'unico esponente elegibile della provincia di pesaro urbino il vicepresidente della regione si presenterà al collegio uninominale di pesaro per la camera dei deputati opposto a giordano masini di più europa nome della coalizione esterno al pd dopo la rinuncia di alessia morani nel collegio al uninominale al senato marche nord dovrebbe essere il senatore antonio depoli dell'udc a sfidare marco bentivogli per il centro sinistra fratelli d'italia piazzerà nomi pesanti come carlo ciccioli e l'assessore giorgia latini all'uninominale per i collegi di ancona e di macerata al proporzionale fratelli d'italia vede elena leonardi favorita per la posizione di capolista davanti all'assessore regionale guido castelli per quel che riguarda la lega al proporzionale il commissario regionale riccardo marchetti pare bene posizionato per il ruolo di capolista alla camera mentre il deputato uscente mauro lucentini per quello del senato forza italia potrebbe schierare l'ex campionessa di scherma nonché sottosegretario allo sport valentina vezzali in vantaggio sull'assessore regionale stefano aguzzi un'altra sottosegretaria la senatrice uscente rossella cotto dopo i 564 voti ottenuti alle parlamentarie correrà per la camera dei deputati per il movimento 5 stelle e sono state rese note le graduatorie del piano per asili nido e scuole dell'infanzia finanziato dal progetto delle pnrr alle marche andranno oltre 21 milioni di euro per 22 progetti presentati dai comuni con l'obiettivo di consentire la costruzione riqualificazione emessa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia alla provincia di pietro urbino vanno circa 6 milioni di euro con interventi previsti nei servizi educativi di monte labate mondolfo coglie al metauro gradara belforta lisauro urbino carpegna e sasso corvaro auditore e dagli asili passiamo alle scuole superiori e lo facciamo per parlare di 20 studenti del bramante genga autore di un originale creazione all'insegna della sostenibilità sostenibilità e creatività sono questi due ingredienti usati da 20 studenti di seconda terza e quarta superiore del bramante genga per realizzare la prima bicipalco mobile in italia questa bicicletta è dotata infatti di un carrello componibile formato da nove pannelli di legno e una struttura di sostegno pronto a trasformarsi in un palco mobile da 5 metri di lunghezza per 1,3 di profondità una cargo bike costruita grazie anche all'impegno di urbico bike courier urbano ma anche dell'amministrazione comunale riuscendo di fatto a portare a termine una bicicletta elettrica rendendola particolare e unica nel suo genere assolutamente siamo qui nel deposito laboratorio di urbico e la collaborazione è stata col bramante genga l'amministrazione dato un po l'input e soprattutto lavorerà per fare funzionare al meglio questo progetto aperto però a tutti quelli che vogliono mettere in gioco la propria creatività in città peso resta la musica e peso resta la bicicletta unità in un unico strumento quindi una bicipalco completamente sostenibile elettrica nell'aiuto della pedalata perché comunque il palco un pochino pesa in legno ovviamente ma è adatto per qualsiasi tipo di piccolo spettacolo da portare nei quartieri da portare nelle feste da portare anche dove c'è bisogno magari di trovarsi a parlare e raccontare qualcosa vi inaugureremo presto e assieme alla scuola in una giornata che partirà proprio dal bramante genga poi diciamo la racconteremo meglio da tutta la stessa pensando magari che possa essere anche la prima di una piccola flotta e soprattutto la prima in Italia ad alzare questo messaggio speriamo che venga seguito all'insegna della sostenibilità e della creatività nel prossimo servizio passiamo ad uno degli eventi dedicati ai bambini e ai ragazzi più apprezzati sul nostro territorio parliamo delle paese dei balocchi che ieri sera ha tagliato il nastro con la sua diciottesima edizione paese dei balocchi che continuerà a bellocchi di fano fino a domenica 21 agosto e a tal proposito vi ricordiamo che questa sera alle 21 e 20 rossini tv vi proporrà lo speciale dedicato appunto la prima serata di ieri realizzato dalla nostra roberta esperide della quale vi offriamo qualche anticipazione nel prossimo servizio questa sera mi trovo a fano per la precisione a bellocchi di fano non ci siamo fatti spaventare dal tempo e siamo pronti come vedete per la diciottesima edizione del paese dei ballocchi festa bellissima ormai consolidata da queste parti musica spettacoli divertimento fantasia immaginazione laboratori creativi e cucina tradizionale e davvero tanto tanto altro ancora e abbiamo anche un ospite d'eccezione per questa diciottesima edizione del paese dei balocchi luca barbarossa cantautore dell'importante del nostro panorama musicale italiano chi ha avuto quest'idea ha avuto l'idea di creare dei momenti di forte suggestione legale legate al paese di balocchi ma introducendo ogni anno anche un tema profondo quest'anno è quello del tempo e con un sindaco io tolgo la fascia due volte nell'anno la settimana grassa con cedendolo al sindaco del carnevale e al paese dei balocchi cedendolo al sindaco del paese dei balocchi quest'anno luca barbarossa un cantante una celebrità una personalità importante che dà lo spessore a questa manifestazione ma ecco quello che mi piace dire giocando si cresce giocando si impara e il paese dei balocchi è un grande gioco ma serio ci sono veramente tantissime attività create dai tanti volontari del paese dei balocchi ma create con intelligenza delle attività che raccontano anche un pochettino la vita che fanno giocare i bambini con le cose importanti che quindi sono anche educative quindi una grande manifestazione anche per questo e poi perché fa a tornare bambini noi perché insomma sono veramente dei momenti magici dei ricordi ad esempio come avvicinarsi alla belena con pinocchio all'interno e vedere i bambini sorpresi rende un po bambini anche noi oppure avvicinarsi alla fata turchino oppure imbattersi nel gatto e la volpe che girano insomma in questa fantastica manifestazione e questa è un po la base ciò che la città di Fano vuole creare per dar valore al progetto Fano città dei bambini e delle bambine diamo un po di numeri quattro giorni di festa dal 18 quindi da questa sera fino al 21 di agosto più di 24 mila presenze nelle edizioni passate e 150 volontari comunque che lavorano per il paese dei balocchi questo sono i numeri 150 persone che lavorano e quindi in un periodo come questo di vacanze vuol dire sacrificare le proprie vacanze e poi e poi tante tante persone perché qui c'è un diciamo tante attività contemporaneamente da avere un sindaco come come la Barbarossa ma poi la belena le attrazioni gli spettacoli di arte di strada insomma laboratori giochi quindi c'è proprio veramente per tutti quindi per la famiglia per i bambini ma anche per le persone per pensare insomma il ROF 2022 si chiuderà domenica 21 agosto alle 20 e 30 alla Vitri Frigo Arena con Trarondò e Tournedos galà celebrativo che festeggi i 40 anni di Pierluigi Pizzi al ROF nel corso della serata Pizzi sarà anche insignito della cittadinanza onoraria di Pesaro nella sua costante presenza al festival l'artista milanese ha messo in scena dall'82 13 nuove produzioni più volte riproposte per un totale di 22 allestimenti poi ripresi in altri teatri in Italia e all'estero la serata lo vedrà dialogare sul palco con Luigi Ferrari già direttore artistico del festival dal 92 al 2000 in una messa in scena curata da Massimo Gasparon sarà Diego Mateus a dirigere l'orchestra sinfonica nazionale della RAI il coro del teatro 22 basso e un cast davvero di primordine divertimento assicurato domani sera a Fano perché all'arena BCC di Tre Ponti si esibirà il celebre comico romano Maurizio Battista nella Summer Edition 2022 dello spettacolo Tutti contro Tutti ricordiamo che c'è ancora qualche biglietto disponibile sul circuito di vendita Ticket One domenica 21 agosto alla palla di pomodoro c'è invece una festa per giovani con fini quanto mai nobili vediamo tutto nel prossimo servizio quando la solidarietà chiama i giovani rispondono e questo lo slogan utilizzato dal gruppo di giovani organizzatori di Cherie per promuovere un evento in cui al divertimento e alla musica vengono abbinati sostegno e umanità un vero e proprio street party pubblico in piazzale della libertà domenica 21 agosto dalle 19 fino a mezzanotte aperto per tutti i giovani e finalizzato la raccolta fondi per lo Iopra la onlus pesarese che si occupa di assistenza ai malati terminali che ho deciso di ecco unire fare da trade union a questa a questa voglia di fare festa che hanno i ragazzi però anche sensibilizzandoli a quella che è la la solidarietà in questo caso per lo Iopra che è un'organizzazione no profit che si occupa di assistenza ai malati terminali vista anche l'esperienza personale che ho vissuto poco meno di un anno fa con con mia moglie con la peri di mia moglie lo Iopra si è veramente adoperato tantissimo per alleviarci da quelle che sono diciamo il carico il calvario che abbiamo vissuto e loro hanno fatto veramente tanto io ho votato la mia vita all'aiuto non abbattendomi mai ma invece diciamo trasformando questa questa esperienza dolorosa in un momento di gioia e di felicità e quindi quale occasione migliore che non quella di fare una bella festa per i giovani in una piazza così bella come quella di pomodoro e ringrazio il comune perché si è adoperato veramente tanto sono sicuro che i giovani saranno veramente tanti numerosi con una gran voglia di fare festa e anche di donare dare un aiuto un contributo concreto da parte loro. Ecco spesso magari i giovani vengono considerati come non sensibili a tematiche del genere invece voi siete un gruppo di giovani che avete organizzato questo evento in che modo? Assolutamente sì allora non sono d'accordo che i giovani sono insensibili a queste tematiche i giovani sono sensibili che spesso non sono stimolati e non sono coinvolti all'interno di queste tematiche noi non abbiamo avuto nessun tipo di resistenza nell'organizzare questo evento si tratta semplicemente di informarli coinvolgerli e dare loro la possibilità di esprimere la loro vicinanza a questi temi chiaramente organizzando un evento che possa coinvolgerli e divertirli allo stesso tempo. Abbiamo lanciato una campagna di pubblicità chiaramente in questo caso rimodellata in base alla tematica dell'evento dunque abbiamo diciamo spinto sul discorso della vicinanza ai malati terminali e quindi sul fare del bene. Ci saranno quindi persone che si esibiranno dal vivo, DJ set, DJ giovani emergenti, ci saranno degli spettacoli digitali tramite l'utilizzo dell'headwall, ci saranno delle ballerine che si esibiranno coordinati con tutti i momenti artistici dettati dal DJ e saranno presenti anche tanti effetti artistici dal punto di vista fisico quindi CO2, cose che possano coinvolgere il pubblico e garantire uno spettacolo all'altezza dell'occasione. Attorno al palco verranno posizionati dei banchetti ben identificabili dello Iopra dove chiunque potrà potrà donare, verranno fatte un'attività di crowdfunding quindi di raccolta fondi anche via internet, ci sarà lo schermo, il led che riporterà anche il codice IBAN dove ognuno potrà potrà fare i versamenti e offerta libera, sì sì ognuno liberamente può fare, può donare quello che vuole. E ci spostiamo a Fano dove alla chiesa di Sant'Arcangelo da domani parte una nuova mostra, quella dello studio d'arte pesarese di Tiziano Donzelli. Lo studio d'arte di Tiziano Donzelli sarà da sabato 20 a domenica 28 di agosto alla chiesa Sant'Arcangelo di Fano per mettere in mostra le loro opere. Diverse opere tra corsisti e lei, Tiziano Donzelli che è l'artista e il coordinatore di questo progetto, ci può spiegare in che cosa consiste? Lo studio d'arte di Tiziano Donzelli sarà in mostra a Fano sabato 20 alle 6 del pomeriggio con l'inaugurazione per portare in mostra le maioliche classic pesaresi, dalla Rosa di Pesaro alla Margherita al Raffaellesco Bianco, al Raffaellesco Blu e quest'anno abbiamo una novità, porteremo in mostra questa tavolata di maioliche medievali, maioliche che sono del 1200 con l'utilizzo di due colori soli che erano l'ossido di rame e l'ossido di manganese, quindi un ossido verde e un ossido marrone particolari al tatto perché non è liscio ma sbolla poi in temperatura. Questo perché? Perché sarà una cosa interessante anche per quanto riguarda, oltre alle persone che lo verranno a vedere spero, anche per le proloco dei comuni limitrofi quali Gradara, Salleo, Mondavio perché per le loro rievocazioni storiche medievali sarebbe una cosa interessante anche per poter portare in mostra. Oltre alle maioliche porterò io in mostra dei dipinti a grosso formato, quest'anno il tema sarà un tema moderno e il tema dell'albero, quindi ci saranno queste tele molto colorate, alcune molto vivaci colorate con dei colori complementari che saranno proprio a far cornice a queste maioliche nella parte centrale della chiesa per dare proprio lustro. Ecco appenderò questi quadri diciamo alle pareti per cui insomma ecco cerchiamo di unire questa arte che facciamo qui allo studio da me, pittura, olio, decorazione ceramica e disegno e la porteremo in mostra così alla chiesa Sant'Arcangelo. Ho dei corsisti che mi danno molta soddisfazione, sono con me da svariati anni per cui molti di loro sono anche veramente bravi e applicano queste loro tecniche per fare queste cose molto particolari e diciamo interessanti. Credo che per lei sia anche una soddisfazione vedere loro in questa mostra che ha organizzato lei. Sì sì, per me è un orgoglio partecipare e far vedere queste cose che facciamo anche perché diciamo come scuola siamo rimasti non ti dico da solo ma siamo pochissimi per cui ecco è bello anche rieducare le persone a questo percorso artigianale e artistico che ormai viene un po' lasciato così, viene un po' soppiantato da queste cose moderne o altre cose che vengono proposte. Però diciamo questa è una cosa che secondo me andrebbe un po' rivalutata ecco e quindi fatta conoscere perché poi è una cosa splendida. Concludiamo il nostro notiziario con lo sport perché la Vispesero è ormai pronta ai blocchi di partenza della stagione 2022-2023 e ieri nell'insolita location dello stabilimento Balneare Chalet Amare si è presentata fra volti nuovi, volti noti e volti ritrovati. Il termometro dell'entusiasmo è già da febbre biancorossa. Nel giorno del 44esimo compleanno dell'applaudito presidente Mauro Bosco, la Vispesero si presenta ai suoi tifosi nell'insolita location dello Chalet Amare dove la notte dello stabilimento Balneare è illuminata dai fumogeni biancorossi accompagnati dai cori e dagli applausi preparatori alla quinta stagione consecutiva di Serie C che partirà il 4 settembre. Una serata condotta da Cristian Ginepro e Valentina Violini col coordinamento del direttore marketing Guerrino Amadori che ha visto sfilare volti nuovi, volti noti e volti ritrovati. Applauditissimi ritorni a cominciare da quello di mister David Sassarini. Guardando i dati statistici di quella squadra di cinque anni fa, era una squadra che riusciva a fare le riaggressioni come squadre da Champions League o da squadre da 50, 60, 70 mila spettatori a partita e noi ci siamo riusciti grazie a voi, dobbiamo avere la stessa cosa. Ritorni che procurano suggestioni ed emozioni come quelle del pesarese Doc Stefano Rossoni o come quello di Manuel Di Paola, reduce dalla vittoria di campionato col Modena e uno dei colpi più rumorosi di questo mercato vissino. È stata una scelta che ho preso in poco tempo, nel senso dal momento in cui era finito il campionato ho fatto i miei ragionamenti e parlando con la società che mi ha fatto capire fin da subito che era contenta del mio ritorno, ci siamo messi lì, abbiamo parlato, abbiamo ricordato anche la stagione passata insieme poco tempo fa e sono stato contento di aver lasciato qualcosa di buono e loro hanno lasciato tanto di più a me che io a loro, quindi sono contento di essere tornato e spero che sia ancora meglio quest'anno e ce la metteremo tutta. Sono gli stessi colori che ho sempre vestito da quando ero piccolo, quindi ritrovarsi a rivestire un'altra volta penso sia un'emozione unica, soprattutto essendo pesarese. Presente alla serata anche il sindaco Matteo Ricci che ha rinnovato l'impegno istituzionale a cercare una soluzione sia per coprire la tribuna Prato sia per rifare il manto erboso del Benelli. Sul palco sono sfilati staff tecnico e squadra, dai portieri cappeggiati dall'applaudito Farroni fino agli attaccanti con l'altrettanto osannato Gucci, dato con le valigie in mano ma sul quale si ragiona ancora su una terza stagione in bianco-rosso. Dopo i playoff sfiorati nessun proclama e una sola promessa. È promessa mia ma è promessa da parte di tutti i miei compagni e che daremo tutto quello che possiamo dare senza risparmiarci mai. Dopo penso che con il lavoro e con tutto quello che potremo fare secondo me ci potremo togliere delle belle soddisfazioni. Però la promessa che mi sento di fare io a nome dei miei compagni e della società è quella che noi daremo sempre tutto per questa maglia, per questi colori che ho imparato da amare. Forza, vi spizzerate insieme a noi! Insieme a noi! Insieme a noi! Forza, vi spizzerate insieme a noi! Si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti a cominciare dalla prima serata che vi abbiamo già anticipato con un servizio all'interno delle TG che avete visto davvero pochi minuti fa, ovvero il Paese dei Balocchi 2022. Ieri sera è andata in scena la serata inaugurale del festival che, lo ricordiamo, dura fino al 21 agosto. Questa sera vi proporremo la serata inaugurale proprio di ieri con il tempo. Uno sconosciuto che passa e che va o un compagno di viaggio che è il tema di questa diciottesima edizione del Paese dei Balocchi. Vi ricordiamo poi l'informazione di Rossini TV che torna domattina alle 7.20 in diretta con Buongiorno Rossini, la rassegna stampa della provincia di Pesero Urbino che nell'edizione del sabato viene condotta dal nostro Marco Cadeddu. E ancora la prima serata di domani, Gradara Wine Passion, che ve lo ricordiamo è un evento che parte a Gradara proprio questa sera e dura fino a domenica 21 agosto. Ciò che succederà stasera potrete rivederlo domani alle 21.20 con lo speciale realizzato appunto in questa edizione di Gradara Wine Passion 2022. E si conclude qui il nostro telegiornale. Da parte mia e di tutta la redazione vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi.